E' arrivato il momento, parliamo di intelligenza artificiale, in particolare per fotografi. Prima di cominciare vi ricordo che se volete imparare a usare l'intelligenza artificiale, ma soprattutto se volete imparare a non usarla e quindi a fare le cose in maniera tradizionale, vi invito a iscrivervi subito al mio canale cliccando il bottone qui sotto e attivando anche la campanella per non perdervi le notifiche. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale, io sono Cesare e come ormai sapete sono un fotografo che fa video su YouTube. Mi avete chiesto in tanti che cosa ne penso dell'intelligenza artificiale, in particolare di quella generativa. Ora non voglio fare un video per parlarvi di normative, di quello che penso a livello legale di tecnologie come queste, vi posso però dare una traccia che secondo me a livello umano è molto valida e quindi secondo me è abbastanza orizzontale e vale un po' per tutti. Fateci caso, che cosa pensate nel momento in cui vi dicono che qualcosa come per esempio il commercialista può essere bypassato? E' successo anche in passato, io stesso ho parlato di portali che offrono un servizio che è assimilabile in qualche maniera a quello dell'intelligenza artificiale perché fondamentalmente prende il posto di qualcos'altro che prima dovevamo pagare tanto. Vi faccio questo esempio per farvi capire. Prima si doveva andare dal commercialista, è stato così per diversi anni fino all'arrivo di un nuovo sistema computerizzato, automatizzato, che si prende cura di tutta una serie di operazioni che prima dovevamo delegare a una persona che le svolgeva per noi e si faceva ben retribuire. Ecco che grazie alla digitalizzazione, grazie alla tecnologia, arriva questo nuovo sistema, un'app semplicissima con cui noi possiamo gestire tutti gli aspetti fiscali del nostro lavoro semplicemente con un click. Che cosa state pensando? Ebbene, vi assicuro che le persone si dividono in due categorie. Ci sono i commercialisti, che sono sul piede di guerra ovviamente perché dicono ci volete rovinare, ci volete togliere il lavoro, ci volete far sparire. E hanno ragione, è esattamente così, li vogliamo far sparire. E poi c'è il resto del mondo. Il resto del mondo che sta pensando finalmente non devo più pagare questa tassa di andare dal commercialista. Vedete com'è questa forbice? Ebbene, con l'intelligenza artificiale sta succedendo esattamente la stessa cosa. Questo è il motivo per cui secondo me non sarà possibile fermare questa tecnologia. Io nemmeno ci provo, non sono interessato a combattere il progresso. Però devo riconoscere questa pattern che ho già visto in passato e che sto vedendo ancora. Passiamo ora al mondo della fotografia. Che cosa sta succedendo? Ovviamente non esiste a oggi una tecnologia in grado di rimpiazzare 100% il fotografo, ma proprio come non esiste una tecnologia in grado di rimpiazzare 100% il commercialista. Esistono degli aiutini che ti permettono magari di cavartela da solo in determinati contesti, ma quando ti trovi a dover fare una cosa seria, quando faccio per dire ti arriva una cartella esattoriale perché hai sbagliato, ecco che torni piangendo dal commercialista e a questo punto ti pela. Era importante però fare questa distinzione per farvi capire il punto a cui arrivo parlando di fotografia e videomaking. è evidente che esistono fotografi, artisti, disegnatori, videomaker, editor, qualsiasi cosa, copywriter anche, è pieno di professioni che sono minacciate dall'intelligenza artificiale, minacciate alla base proprio, perché è evidente che una persona se può scegliere di avere un servizio gratis, su un servizio a pagamento sceglierà sempre il servizio gratis, ma sempre perché siamo in un paese povero e perché molti di noi non sono in grado di capire quando un servizio ha un valore e quando invece no. Quindi è evidente che tra un servizio gratis e uno a pagamento il 99% degli italiani andrà sempre su quello gratis, poi magari scoprirà di aver fatto un sacco di errori e allora tornerà piangendo a farsi fare le cose da un servizio a pagamento o da un professionista a pagamento, però il 99% andrà con un servizio gratuito e magari perché no si troverà anche bene e rimarrà così perché in fin dei conti non ha bisogno di quella professionalità in più che viene garantita da una persona che viene retribuita per svolgere quella stessa identica mansione. Ora parlando di intelligenza artificiale in fotografia e fotoritocco, mi è capitato di recente un lavoro che mi sembrava si prestasse molto bene per farvi l'esempio che vi porto oggi. Vi do un po' di contesto. Il cliente ci manda una foto e chiede che in questa foto venga inserito un oggetto. Ora io vi faccio vedere che cosa succede all'interno del mio computer. Come potete vedere qui abbiamo la foto del cliente, la foto del cliente che è stata importata all'interno di Photoshop. Io sono solito lavorare in questa maniera per cui trovo un'immagine che il cliente mi ha richiesto, la posiziono all'interno della fotografia che il cliente mi ha mandato. Come potete vedere questa è la fotografia scontornata di una moto inserita all'interno di questa immagine. Come vi faccio vedere, io qui ho aggiunto dei livelli perché per mecciare la luce del sole che proveniva da sopra e per mecciare conseguentemente le ombre sono andato ad aggiungere delle cose, dei livelli, per rendere credibile questo accrocchio che ho fatto perché la luce deve provenire da una direzione coerente con l'ambiente soprattutto se c'è il sole inquadrato. Quindi la prima cosa da fare è stato aggiungere un bagliore come potete vedere, poi è stata aggiunta un'ombra, infine è stata aggiunta anche l'ombra sulla superficie stradale, quindi l'ombra della moto vera e propria. Se c'è una fonte luminosa è credibile che ci sia anche un'ombra. Subito dopo sono stati fatti degli aggiustamenti per quanto riguarda il colore e questa che vi faccio vedere è l'immagine sostanzialmente finale. Qui vediamo un prima e un dopo con tutte le modifiche che sono state fatte. Per fare una cosa di questo tipo io ci metto mezz'ora se perdo tempo. Adesso andiamo su Adobe Firefly, sistema da cui deriva Photoshop Beta di cui stanno parlando tutti in questi giorni, andiamo a inserire la stessa identica immagine, andiamo a prendere il pennello con cui andiamo a segnalare all'applicativo dove vogliamo inserire il nostro oggetto. Io vado a fare una pennellata abbastanza rozza come potete vedere, vado a coprire la stessa area che avevo utilizzato per inserire la moto nell'immagine che ho fatto io. Quindi vado a pennellare, dopodiché una volta che ho fatto la mia selezione vado a scrivere dentro in questa casella di testo e gli do un'istruzione in inglese che reputo essere la più accurata possibile per fargli capire come deve fare il mio lavoro. Quindi io praticamente sto dicendo a un'intelligenza artificiale come deve fare per sostituirmi, glielo sto dicendo io. E glielo sto dicendo nella maniera più completa possibile, quindi non gli sto nascondendo informazioni, non gli ho dato un'informazione parziale, gli ho detto proprio inserisci un Harley Davidson andando a matchare le luci, le ombre e i colori. Quindi più di così è esattamente quello che ho fatto io. Vediamo che dopo qualche secondo mi viene restituito questo risultato che vi mostro. Ora, cosa vogliamo dire di questo risultato? Ragazzi, a me non piace. Vi aspetto nei commenti a questo punto, fatemi sapere se a qualcuno di voi piace una cosa del genere. Io adesso voglio addirittura essere democratico, guardate che cosa facciamo. Gli diamo un secondo tentativo, gli diciamo di rifarlo da capo, gli diciamo proponimi delle alternative. Perché non sono contento e questo lo può fare chiunque a casa, anche il cliente poteva farsela da sola questa cosa a casa, chiedere un'altra opzione. Benissimo, ecco qui delle altre opzioni. E di nuovo ragazzi, a me non piace. Io non me la sento in cuor mio di dire che fa schifo, però la mia è un'altra cosa. E giustamente io ci ho messo anni ad arrivare a questo punto di cottura. L'intelligenza artificiale è nata da poco, quindi magari ci arriverà. Però secondo me il controllo umano su un'operazione di questo tipo è un qualcosa che non si va a rimpiazzare facilmente. Nel momento in cui un cliente fa una richiesta specifica, vuole un risultato specifico. Non possiamo dargli un risultato generico come quelli che vi sto facendo vedere. Ora andiamo a vedere un ultimo passaggio. Come vi faccio vedere? Nel momento in cui noi andiamo a esportare l'immagine, vado a fare una traduzione sommaria. Nel momento in cui noi esportiamo un'immagine generata con intelligenza artificiale per via di una serie di normative che ci sono ormai in vigore, questa immagine viene marchiata. Cioè c'è una sorta di filigrana invisibile, un metadato che segnala che questa immagine è stata creata con intelligenza artificiale e quindi è finta. Attenzione bene, la foto in questione non era finta perché mi è stata mandata dal cliente. Ma il semplice fatto di aver fatto una modifichina, di aver aggiunto un elemento, una cosa che prima avrei fatto con Photoshop senza nessuna conseguenza, adesso il fatto di fare questa modifica con intelligenza artificiale mi costringe a inserire una filigrana dentro nella mia immagine, cioè quindi non visibile, scusate, non è una filigrana, è un metadato invisibile, però all'occorrenza può essere letto questo dato. Quindi chiunque prendendo la mia foto generata con intelligenza artificiale o anche solo modificata con intelligenza artificiale può vedere che è stata generata con intelligenza artificiale. A quel punto l'immagine è segnalata come sostanzialmente interamente finta. Non importa che il 90% dell'immagine fosse quella fornita dal cliente. Il semplice fatto di aver aggiunto un dettaglio piccolo così mi rende l'intera immagine marchiata a fuoco come generata da intelligenza artificiale. Questa è una cosa che a me non piace assolutamente. Rendetevi conto, io nel momento in cui vado a fare un servizio fotografico, sono un artigiano, sto facendo il mio lavoro, lo sto facendo con le mie mani e nel momento in cui vado a fare una piccolissima modifica con uno di questi sistemi di intelligenza artificiale viene segnalato che il mio lavoro è completamente finto. Questa cosa da parte mia è inaccettabile. Sono sicuro che non va tanto bene neanche ai miei clienti perché i miei clienti si trovino delle immagini dove ogni potenziale cliente del mio cliente può andare a scoprire che l'immagine è generata con intelligenza artificiale non è una cosa desiderabile. Quindi questo è un ulteriore motivo, oltre all'inaccuratezza e all'inaffidabilità, questo è un ulteriore motivo per cui secondo me questo sistema non è maturo. Noi non siamo maturi per questo sistema e soprattutto è una cosa che va bene se stai giocando. Molti miei colleghi mi hanno detto vabbè io quella roba lì con la moto che ci hai fatto vedere non avrei saputo farla, quindi mi sarei accontentato di quella generata con l'intelligenza artificiale. Certo è una democratizzazione, la tecnologia ci sta fornendo le chiavi per una democratizzazione totale del sapere anche in quest'ambito. Quindi prima dal commercialista, adesso possiamo bypassare il commercialista e c'è l'app, adesso con la fotografia noi possiamo bypassare il fotografo e l'editore, il fotoritoccatore perché facciamo tutto da soli, anzi ce lo facciamo fare dall'intelligenza artificiale, ma sarà sempre meno bello e ci staremo sempre accontentando. Perché? Perché è una roba gratis, è una roba che non stiamo pagando e ci sarà sempre tutta la differenza del mondo. Ora devo dirvi a onor del vero che io ho anche sbagliato, nel senso che ho frainteso la richiesta del mio cliente, per cui avendogli mandato la grafica che vi ho appena mostrato, la mia, non quella dell'intelligenza artificiale, mi ha detto giustamente che non avevo inteso bene la richiesta, per cui vado a farvi vedere un secondo video e partiamo questa volta dall'intelligenza artificiale. Io torno sul mio Adobe Firefly, che ripeto è sostanzialmente il motore su cui è basato Photoshop Beta, quindi Photoshop Beta è più bello, però non siamo distantissimi, è comunque lo stesso funzionamento. Ora io vado a dipingere tutto questo portone perché fondamentalmente il mio cliente mi ha detto no, guarda, ti ho detto di inserire una moto, ma non intendevo sul piazzale, intendevo pitturata sopra questo portone, perché il servizio che offre il mio cliente è un servizio di stampa sopra i portoni dei box, quindi non gli serviva la moto fuori, ma gli serviva la moto dipinta sopra la porta del box. Di nuovo io vado a inserirgli un'istruzione e non sto cercando di fregarlo per fargliela fare male, gli sto dando un'istruzione in inglese, quindi neanche in italiano, gliela do già in inglese corretto, cercando di dargli la più specifica possibile, cercando di dirgli quello che farei io per ottenere il risultato e siccome sono un utilizzatore di Photoshop da 20 anni lo so come dirgli queste cose. A questo punto lui ci pensa e adesso mi andrà a restituire un risultato che vi mostro, che di nuovo ve lo posso anticipare, al di là del fatto che come vedete ci mette un po', quindi alle volte sono quasi più veloce io, mi restituisce dei risultati che non voglio dirvi che non piacciono a me, non mi piacciono assolutamente, però non è quello il punto, il punto è che non piacerebbero nemmeno al mio cliente, perché il mio cliente mi ha chiesto un Harley Davidson, ecco sono arrivati i risultati, queste vi sembrano delle Harley Davidson? A me no, queste a me sembrano delle moto generate da intelligenza artificiale, e non vanno bene, non vanno bene, questa è la mia. Vi faccio vedere quello che ho prodotto io per il mio cliente, io gli ho fatto tre proposte anch'io, perché non voglio essere da meno dell'intelligenza artificiale per carità, e non lo so, ditemi voi, guardate quella che gli ho proposto io e guardate quella che mi ha proposto l'intelligenza artificiale. Ripeto, capisco benissimo che se uno mi dice io Photoshop non lo so usare e Adobe Firefly è gratis, Mid Journey è gratis, è gratis per un tot di download, poi in realtà si paga pure lì, però se uno mi dice io questa roba non la so fare e non ho voglia di impararla, e quindi questa cosa qui è democratica perché permette anche a me, che sono un caprone, di tirare fuori un buon risultato. Io lo capisco, però così rimani un caprone, nel senso che non stai imparando a farla quella roba lì, e accontentandoti di una roba raffazzonata fatta con intelligenza artificiale non stai nemmeno capendo come fargli le richieste, perché ti accontenti della prima cosa che ti dà probabilmente. In questa maniera è vero che è democratico, però stiamo abbassando il livello, e soprattutto stiamo alzando il livello di gente che prima non entrava nemmeno nel mercato, perché magari un cliente di questo tipo prima non la faceva questa grafica, magari faceva un post di solo testo dove diceva offriamo questo servizio, quindi potenzialmente sta cercando di alzare il livello con un'immagine, però in realtà sta abbassando il livello buttando su un sacco di immagini di pessima qualità, se se lo fa con un'intelligenza artificiale e non la sa nemmeno gestire. Secondo me a livello professionale è ancora la soluzione migliore affidarsi a un fotografo, perché il discorso è quanto ti costa un fotografo? Un po', ma neanche tantissimo. Quanto ti costa non affidarti a un fotografo? E lì è incalcolabile, perché se con una foto fatta bene tu magari raggiungevi dieci clienti, con una foto fatta male magari non ne raggiungi nessuno, e quindi tu credevi di aver speso tanto che hai dato mille euro al fotografo, ma magari ne hai persi diecimila, quindi è incalcolabile. Vi faccio l'esempio finale per farvi capire di che cosa stiamo parlando. È evidente che fino a una ventina di anni fa, adesso non sono un esperto di moda cinese, quindi adesso sbaglierò con le date sicuramente, ma fino diciamo a una ventina di anni fa, tu non pensavi neanche di andare a vestirti con delle robe che sembravano griffate, non ci pensavi neanche, perché sapevi benissimo che un orologio di Rolex costava 7000 dollari, e quindi non te lo prendevi neanche, sapevi benissimo che un vestito di Gucci costava, quello non lo so quanto costa, quindi cifre a caso, però troppo alte, quindi tu non pensavi neanche di andarti a prendere robe del genere. Adesso con colossi cinesi come Shein, Alibaba, Primark e robe del genere, siamo in vasi di pattumiera, che poi finisce in discarica e non è nemmeno riciclabile, siamo in vasi di pattumiera, che è tutta copiata dai brand di moda, però costa praticamente zero. Abbiamo le magliette da un euro, abbiamo i pantaloni da 99 centesimi, abbiamo gli orologi da 100 euro che copiano i grandi marchi, però è evidente che la differenza sussiste, e questa differenza è che se io mi compro un capo firmato vero, mi dura magari tutta la vita. Se io prendo una roba da Primark o su Shein, ma io ve lo posso garantire, ho preso cose su Shein e su Primark, le ho prese per fare degli shooting magari. Quindi ho detto, non sto a spendere, io lì capisco, ci sono casi in cui capisco, io non vado a prendere un vestito da 2000 euro per fare uno shooting in giornata, o lo affitto, o se no, se è una roba che non è neanche per me magari, ma mi è stata commissionata, propongo al cliente di prendere una roba cinese, la metti quella volta e sai già che poi la butti via perché sarà distrutta entro fine giornata. Questo però mi fornisce tutti gli strumenti per potervi dire che i vestiti presi su fast fashion cinese, qualsiasi cosa preso su fast fashion cinese vi dura una giornata, dopodiché è già tutto sformato, è già tutto pieno di buchi, è pattumiera fondamentalmente, per questo costa così poco. Questo è il paragone perfetto. È evidente che nel momento in cui c'erano soltanto le grandi griff, dovevi per forza comprare da quelli ed erano monopolisti. Adesso c'è una democratizzazione, adesso tutti possono vestirsi con una cosa che sembra un abito firmato, ma non lo è, non lo è, ed è una zucca di cenerentola perché a mezzanotte torna a essere pattumiera la roba di Primark e la roba di Sheen. E allo stesso modo, secondo me, l'intelligenza artificiale in questa fase garantisce una democratizzazione nel senso che permette a chiunque non sappia fare questo tipo di cose di portarsi a casa comunque un risultato. Prima non lo poteva fare, quindi è una democratizzazione, è un'apertura su una cosa che prima era appannaggio di pochi. Però non è all'altezza, non è la stessa cosa, esattamente come un vestito di Sheen non è uguale a un vestito firmato vero. Stiamo parlando di una cosa che all'apparenza può sembrare uguale. Quindi se tu lo fai vedere così velocemente e poi lo metti via, sembra la stessa cosa. Puoi ingannare i polli, puoi fare un post su Instagram e magari qualcuno ci casca. Se io mi metto un Rolex finto, un pataccone, e lo faccio vedere così da lontano, uno magari ci casca e diceva sì, quello sembra un Rolex, però poi se vai a vedere vicino è già tutto pieno di graffi perché hai fatto di materiali pessimi. Se fai così sul cinturino si rompe e non è assolutamente la stessa cosa. Senza contare che un Rolex ti dura tutta la vita. Un orologio cinese non puoi nemmeno ripararlo perché non esistono le componentistiche e nessuno te lo ripara perché è un pataccone. Se anche qualcuno te lo riparasse, l'hai pagato 100 euro, ti costerebbe 500 euro farlo riparare. Quindi ne compri uno nuovo tutte le volte perché non vale niente. E secondo me esattamente lo stesso discorso è applicabile a queste nuove tecnologie. Democratizzazione, costi bassissimi, aperto a tutti, valore molto basso. Molto basso, ragazzi. Perché tutte queste cose che riusciamo a fare adesso con queste intelligenze artificiali non vanno a sostituire le cose che facevamo prima con la fotografia vera. Io non posso dire all'intelligenza artificiale fammi tu le foto del mio matrimonio, del mio battesimo o del mio prodotto. Perché l'intelligenza artificiale ci proverà e restituirà un risultato in qualche maniera credibile ma artefatto e finto. E se noi stiamo giocando, se siamo sedicenni che stanno facendo la fotina e vogliono cancellare il fidanzatino sullo sfondo perché hanno cambiato fidanzatino, va bene, per carità. Però un'azienda non può usare questi sotterfugi per promuovere i propri prodotti. Ci sono dei giochini carini che ho visto fare a delle aziende con l'intelligenza artificiale per fare post virali. E quello è carino. Tipo aziende che ci hanno giocato e hanno detto così sarebbe la nostra campagna se l'avesse fatta l'intelligenza artificiale. Erano robe divertenti, però non puoi basarti su quello per sempre. Un bel momento dici va bene, sta bolla dell'intelligenza artificiale è esplosa, abbiamo fatto tutto il post dicendo e adesso che cosa si fa? Adesso però bisogna vendere, tornare a fare le cose fatte come si deve. Quindi si torna ai metodi classici. E vi dico anche una cosa per chiudere il discorso. Uno potrebbe anche dire vabbè ma l'intelligenza artificiale progredisce e un bel giorno l'intelligenza artificiale sarà in grado di metterti un Harley Davidson dentro in quella in quella saracinesca come volevi tu. La mia risposta è una semplicissima. Esiste già la tecnologia per fare quella cosa. Perché la casa produttrice di quella particolare moto ha tutti i disegni tecnici e i render 3D. E figurati se non ha un software che in due clic è in grado di realizzare quella cosa già perfettamente renderizzata. Quindi questa è una tecnologia che esiste già e non va ad aggiungere niente. L'intelligenza artificiale è solamente una democratizzazione verso il basso. Verso l'alto a parer mio in questa fase è completamente inutile e dubito che verrà utilizzata per fini seri e professionali. Perché? Non è questo il modo di fare. Perché secondo me nessuna azienda farà mai vedere dei prodotti finti fatti con l'intelligenza artificiale. Nessun influencer farà mai vedere sì l'abbiamo fatta tutti la foto in cui ci mettevamo il mantello da Superman con l'intelligenza artificiale però è finita lì. Un influencer dico un influencer per dire proprio la roba più easy che mi viene in mente quindi non è un'azienda è uno che fa dei post che ha raggranellato un po' di follower. Un influencer può farlo una volta quel giochino due volte però non può continuamente dire ecco la mia foto finta alle Hawaii ecco la mia foto finta con la Lamborghini ecco la mia foto finta a cavallo. Cioè nel momento uno dice ma io ti seguo perché fai delle robe interessanti mica perché stai a casa col computer lo so fare anch'io quello capite a questo livello secondo me questa democratizzazione non funziona non funziona e non funzionerà mai quindi ci sarà sempre bisogno delle cose tradizionali lo dico sia per i commercialisti sia per i fotografi sia per me stesso perché comunque ve lo dico il lavoro per me non sta diminuendo anzi sta aumentando sta aumentando tantissimo e stanno anche aumentando le tariffe perché un conto è dire adesso c'è la democratizzazione benissimo adesso ci sono le app che ti fanno la post produzione gratis perfetto fatela con le app se la vuoi fatta da me però a questo punto costa di più perché io vado verso un target più alto che se lo può ancora permettere a questo punto visto che il target più basso difficilmente mi pagherà è inutile che mi tengo i prezzi bassi per cercare di agganciare un target che probabilmente non mi pagherà mai dico bene? Bene amici non voglio dilungarmi troppo con questo contenuto volevo soltanto farvi vedere come mai questa tecnologia secondo me è ancora un pochino acerba vi chiedo a questo punto fatemi sapere nei commenti se qualcuno di voi ha utilizzato di meglio che cosa avete utilizzato e se può essere adatto anche a lavorare per aziende a lavorare per brand tenete conto che io spesso fotografo componentistica industriale di alta precisione quindi è molto difficile per me dire a un'intelligenza artificiale mi devi realizzare un pistone di 8 mm di diametro con una seghetta filettata fatta così così e cosa? cioè faccio prima a fotografarla quella roba lì e si farà sempre prima a fotografarla a meno di non avere il disegno tecnico e non voler usare il disegno tecnico che le aziende hanno già quindi per me e lato aziende questa nuova tecnologia non si usa è completamente inutilizzabile perché si lavora in un altro modo secondo me questa è una tecnologia che si usa solamente per giocare il che va benissimo perché possiamo usarla per giocare per fare tanti bei giochini divertenti con cui tutti quanti si stanno sbizzarrendo a fare contenuti sui social a far vedere le robe meravigliose che fanno che tolgono i baffi le persone mettono le creste mettono i draghi nel cielo però a livello professionale è una roba che lascia un po' il tempo che trova fatemi sapere voi cosa ne pensate vi aspetto nei commenti vi ringrazio di aver passato un po' del vostro tempo con me e vi do appuntamento al prossimo video ciao